Ultimi allenamenti per una Vispesero che nel giro di quattro giorni rimbalza dalla seconda alla prima in classifica. Dalla sconfitta a testa alta di Reggio per 3-1 al Modena che sabato alle 17.30 arriva al Benelli desideroso di piazzare un altro mattone alla sua scalata alla Serie B. Troverà però sulla sua strada una Vis ottava in classifica e motivata a misurarsi con il top del torneo. Vincere una partita sporca come quella con il Grosseto e tre giorni dopo giocare una partita di contenuti come quella con la Reggiana per me è un grande motivo di orgoglio. La partita con la Modena ci farà capire veramente se siamo pronti a lottare per questo finale di stagione in maniera importante. Si affronta il Modena ripartendo da una partita con la Reggiana grondante contenuti di prestazione avveliti da un risultato mal digerito da Banchini. Ripeto, mi ha fatto sentire orgoglioso della squadra perché abbiamo fatto veramente dal punto di vista dei contenuti tante cose positive, tante cose in cui prima probabilmente facciamo delle scelte più facili e quindi sotto pressione attraversare e giocare dietro le linee avversarie non è una cosa facile. A campo aperto questa partita ci insegna che come ha fatto la Reggiana con noi bisogna avere un pochettino più di calma, di pazienza. Io sto lavorando appunto su questo, però la frenesia non ci deve accompagnare perché quando tu sei frenetico è perché vuoi dimostrare di voler fare una cosa perché sai di saperla fare. Però quello che mi dà fastidio, che mi porta alla rabbia e alla carica giusta per affrontare poi il mio lavoro durante la settimana è il risultato. Perché questi ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale perché avere la personalità e la testa e la qualità di andare lì, tenere la palla, far girare la Reggiana e cercare di imporsi veramente ci vuole coraggio ed è lo stesso coraggio che ci ha fatto pressare il Grosseto in tutte le zone del campo e ci ha fatto fare i punti. Ed ora il Super Modena che arriverà al Benelli sospinto da 500 tifosi che hanno già esaurito il settore ospiti. Modena è una squadra come la Reggiana top, ha un allenatore come Tesser che ha vinto i campionati e dai dilettanti è andato fino alla Serie A e io stimo e ammiro molto. E quindi c'è l'imprevedibilità dei giocatori offensivi, la tecnica, l'esperienza. Una squadra che è bella anche da preparare questa partita perché vedere 5-6 partite nel Modena mi ha fatto divertire. Al Benelli sarà anche giornata bianco-rossa, dunque abbonamenti non validi e tutti i tifosi a comprare il biglietto per aumentare l'afflusso in uno stadio all'altezza della sfida al vertice. Adesso penso che tutto l'anno nella colonna di sinistra della classifica parliamo delle ultime tre partite e tre vittorie in casa. Ci siano tutte le condizioni per aver dimostrato di creare entusiasmo. Dopodiché penso che questa è una squadra in cui l'ambiente si riconosce perché è una squadra che sa soffrire, una squadra che lotta, che combatte. È una squadra che oggi è cresciuta, ha fatto degli step importanti e si può permettere di andare a Cesena, di andare a Reggio e stare dentro la partita facendo divertire me che sono il primo tifoso. E quindi sono convinto e sicuro che la gente verrà per aiutarci, sostenerci. E poi ripeto, a me piacciono sì i cori, però i tamburi sono quello che mi carica di più. E poi ripeto, a me piacciono sì.